ciao a tutti oggi prepareremo il gelato veloce alle nocciole il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa ingredienti sono nocciole tostate zucchero semolato e latte congelato a cubetti andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 fermiamo lo zucchero sul fondo del boccale aggiungiamo le nocciole e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10 prendiamo sul fondo del boccale aggiungiamo il latte congelato a cubetti chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo la spatola al posto del misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità da 6 sino ad arrivare a 8 spatolando il gelato veloce alle nocciole è quasi pronto posizioniamolo in congelatore per almeno un'ora gelato veloce alle nocciole grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti